Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Radio di Luna e oggi siamo qui in un nuovo video allora scusatemi se non sono a fuoco ma ora si che sono a fuoco allora andrò a fare un trucco ben data ovvero prenderò questo mio top che per me è anche questo mio topino lo andrò a mettere e lo andrò a mettere qui io poi andrò a pescare qualcosa il fondo a tinta aprirò gli occhi vedrò quello che ho preso e poi lo dovrò andare ad applicare ben data quindi se mi capita per primo il rossetto ho preso questo nuovo rossetto della Rivel molto carino poi quella che usa spesso l'ho posata perché era rosso e si stava un po' sciogliendo quindi sapete cosa ho fatto? l'ho messo dentro la frigorifera l'ho messo da dentro lo dovrò andare a mettere ben data ma non ho solo questo rossetto della Rivel ho questo che usavo prima sempre della Rivel e ne ho altri due un attimo allora ragazzi scusatemi però sta durando troppo l'intro quindi prima di iniziare iscrivetevi al canale iniziamo perché è già durato troppo eccomi parlando non mi sono accorta che è durato troppo quindi vado a mettermi questa cavolo di cosa aspettate prendo un codino mi devo legare i capelli un attimo io vengo subito voi eccomi quindi io ora andrò a mettere aspettate prima di fare riposizioni qui all'inizio da farvi vedere vabbò qua c'è il pennello che è fuori perché ci servirà sempre ma ci sarà questa io per la vostra c'è questa che è scurissima sembra una cuba ora iniziamo dai c'è tè canzina partiamo ho avuto solo fortuna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti è ね Tra l'altro avevo detto che dovevo andare ad applicare la maschera con questa, però senza spezzio. Oggi non andrò a mettere il correttore, non l'avete visto. Vediamo di beccare la ciprienne e di beccare quella. Che sto toccando? Che sto beccato? No, non mi dire che è quello. Vediamo di beccare il correttore, non l'avete visto. Ora ci vuole il fardo che si trova in questa palette. Ora, la prima scelta è quella che vale. Come ho detto, la prima scelta è quella che vale. Ora ci vogliono gli ombretti che si trovano in questa palette. La prima scelta è la scelta. Quindi la prima scelta è quella che vale. Mai, raga, non mi ricordo, dammi dei consigli. Aspettate. Allora, uno, due, tre, tre. Cosa cavolo è buccato? Buongiorno. Bianco. Allora, io dire che ora sta venendo solo. Fortuna, non so come sta aspettando. Ora ci vuole? No, no. Il rossetto. Perché non vado a mettere. Mascara non vado a mettere. Quindi, anzi, la matita. Quindi, io direi di... Vediamo, tra poco rimaniamo solo i rossetti. Ok, direi di andare a mettere. Prima la matita perché lei non la scapisce. Che sacco che ce l'ho messo a fare? E' una volta che metto una matita senza vedere. Ora, a vedere all'aspetto veramente. E' un altro rossetto. Sembra che non mi funziona. Però me la tengo lo stesso. Perché me l'ha mai regalato. Ora, chiudiamo gli occhi e vediamo di pescare questo. E non uno di questi. La prima che tocco quello vale. E' un altro rossetto. E' un altro rossetto. E' un altro rossetto. Se l'ho fatto inquadrare. Devo. Bene. Non c'è scritto. Io ora mi ribendo. E vi farò vedere una cosa. Allora. Io ho pescato questo. Giusto dove è il nome. Allora. Questo. Se siete arrivati fin qui. Scrivetemi il nome. Di questo. Rossetto. E via. Benissimo. Anche questo è sciolto. Dove lo mettere un po' in frigo. Mmm. E via. Anche questi io spaffi avvenire. E via. Ok. Grazie a tutti. Ora andiamo a vederci all'aspecchio e vedremo quello che ho combinato. Andiamo in bagno e andiamoci a vedere con il pasticcio. Che cavolo? Non sono fatta le doppie labbra. Non sono fatta le doppie labbra. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia vero, se no non mi hanno un bacio e un abbraccio e ci vediamo con un nuovo video. Ciao! Allora, però, da pensare che le doppie labbra, non chissà come le ho fatte. Dovrò solo metterle il rossetto con il dito. Senza metterle così. Con il dito, forse perché è meglio che mi faccia le doppie labbra. Bu... Grazie. Grazie.